Sur gelati freschi appena colti. Non è un semplice motto ma racchiude tutta la filosofia del Coalp Abruzzo con sede a Celano, una strategia vincente in campo internazionale in quanto ha saputo coniugare la tradizionale capacità degli agricoltori del Fusino, la lungimiranza dei responsabili della società, un'associazione di produttori agricoli che può contare su circa 500 associati, 100 soci produttori articoli e 400 soci produttori di patate aderenti al MPP, socio del Coalpa. Il tutto coniugando innovazione tecnologica e industriale e la qualità e la sicurezza del prodotto agroalimentare sia sur gelato che fresco. Proprio quest'anno il Coalpa ha festeggiato il trentesimo anno di attività, un traguardo raggiunto a seguito di intuizione, sacrifici e lungimiranza. Oggi il Coalpa occupa tra fisse stagionali circa 250 addetti in un compresso industriale ubicato su un'area di 110.000 metri quadrati, il tutto in pieno Fusino. La missione, come si può leggere nei depremi illustrativi, è quella di promuovere valori orientati allo stile di vita del consumatore, ai bisogni di qualità e sicurezza alimentare, alla ricerca di uno stile di vita sano e non ultimo, alla riscoperta della italianalità e della sostenibilità della produzione alimentare. Il direttore Sante del Corvo, che sentiremo tra poco, ha avuto modo di preannunciare un vasto piano di investimenti da 30 milioni più 9 milioni del PSR 2014-2020, destinati ad un progetto integrato di filiera che coinvolge anche altre aziende associate a Coalpa e a MPP, l'Associazione Marsicana Produttore di Patate. Sarà realizzato nell'arco dei prossimi 4-6 anni e prevede investimenti strategici sia per l'amodernamento che per il potenziamento degli impianti produttivi, delle attività che vengono esercitate. Ma saranno introdotte anche tecnologie innovative e realizzate nuove strutture di stoccaggio. Il tutto senza dimenticare l'aspetto occupazionale, in quanto sono previste nuove assunzioni nei vari reparti operativi. Ma ascoltiamo il direttore Sante del Corvo. Coalpa Abruzzo è una realtà che non ha bisogno di presentazione, ormai si è imposta non solo a livello nazionale. Approfittiamo per parlare con il direttore Sante del Corvo per capire un po' l'evoluzione di questa importante realtà produttiva del Fucino, che ha sede sotto Celano, che ha festeggiato 30 anni di attività. Andate avanti con moltissime critici, ma i risultati fino ad oggi sono stati eccellenti. Assolutamente, siamo partiti 30 anni fa, oggi siamo una realtà che fattura oltre 30 milioni di euro. Siamo una delle più importanti aziende produttive vegetali sul gelato in Italia. Lavoriamo per grossi marchi, tipo Valle degli Orti, Labbofrost, eccetera. Abbiamo un impianto che trasforma circa 30 mila tonnellate di sul gelato, trasformando oltre 45 mila tonnellate di materie prime. Diamo lavoro a quasi 250 persone e abbiamo, soprattutto e grazie a loro, associati quasi 300 aziende agricole, il 90% del Fucino. Covalpapruzzo non è solo prodotti per la suggerazione, ma soprattutto è anche AMPP, insomma un marchio, anche questo, che si è imposto a livello nazionale, l'Associazione Marziana di Produttori Patate. Assolutamente, oltre alle realtà produttive che abbiamo descritto al Covappa, c'è l'Associazione Pataticola, che gestisce due impianti di stoccaggio, conservazione e lavorazione di patate. L'anno scorso abbiamo manipolato oltre 30 mila tonnellate di prodotto e l'anno scorso, bisogna dire, grazie anche ai mercati, che abbiamo dato una liquidazione importantissima ai produttori, c'è stato un bel reddito, una produzione orto vendibile molto importante per loro e hanno avuto un bel ristoro l'anno scorso. Quando si parla di agricoltura, spesso si parla di crisi, perché poi la realtà è questa. Voi invece rappresentate un'eccezione? Ma l'eccezione che secondo me può essere replicata tranquillamente, perché io sono 30 anni, anzi, andando a guardare la fondazione della MPP, sono quasi 36, che dico che l'aggregazione, il mondo cooperativismo, l'associazionismo è fondamentale per gli agricoltori. Se ci si aggrega, ci si assorge, si va su un mercato con una voce unica, sicuramente si portano a casa risultati e redditi migliori e valori aggiunti per tutti. Perché, nonostante questo concetto che sembra semplicissimo, voi ci siete riusciti, purtroppo il Fucilo non ha recepito, anche con vecchie esperienze, questo nuovo modo di presentarsi? Purtroppo non me lo so spiegare, io dopo 35-36 anni che sto qui nel settore, questo siamo riusciti a fare. Secondo me questa realtà, se si potrebbe raddoppiare, riplicare, quadruplicare o, al limite, far nascere altre realtà simili, che poi ci si può collaborare tra di loro, credo che sia per il Fucilo strategico. In 30-40 anni siamo riusciti a fare questo, il resto poi... Non è veramente poco, ecco, puoi ripercorrere velocissimamente, gli inizi che non sono stati facili, quello che oggi è una realtà che dà lavoro a oltre 200 persone, un fatturato enorme, impressionante, in una zona che ha vocazione agricola, sì, ma ecco, abbiamo detto, ha avuto anche momenti di difficoltà. Ma noi prendemmo questo impianto in relazione al Covalpa, il problema Covalpa, il fatto Covalpa, nel 91, anche se poi la realtà fu costituita nell'89. Qui, ricorderai pure tu, Paolo, che era tutto abbandonato, nel frattempo qui abbiamo investito oltre 36 milioni di euro e questo grazie all'attività del Consorzio, della Cooperativa, quindi di tutti i soggi e l'abbregazione dei dipendenti, siamo oggi questa realtà. E soprattutto quello che stiamo facendo oggi, stiamo programmando il futuro, mettere in sicurezza i prossimi 20-30 anni. Abbiamo in progetto investimenti tra MPP e Covalpa di altri 30 milioni di euro da realizzare nei prossimi 4-5 anni, con l'obiettivo, da una parte, come Covalpa, di raddoppiare le produzioni, quindi passare a oltre 50 mila tonnellate sul gelato, e quindi con tutti i benefici per la produzione agricola e per l'occupazione. Dall'altra parte, come MPP, l'obiettivo è di raggiungere le 40-50 mila tonnellate di patate. Bisogna crescere, se si riesce a fare questo, si mette in sicurezza la struttura per i nostri figli, insomma, noi oramai siamo arrivati. Da buon politico, se sei un politico, avrei detto da buon politico, hai anticipato la domanda che volevo farti, cioè, ecco, il futuro che cosa vi aspetta, ma mi sembra che hai risposto, e invece oggi che cosa state facendo di interessante? Non ci tengo a sottolineare che la parola politica a me mi si attanaia poco, sia come carattere che come... Infatti ho detto sì... Quindi, dicevi scusa la domanda? No, oggi invece state guardando al futuro, comunque pensando anche al presente. Assolutamente, sta venendo fuori, stiamo stringendo un accordo con un grosso gruppo belga che è intenzionato a investire con noi nelle cose che ho illustrato prima, e sicuramente è un gruppo molto serio, tra l'altro è un gruppo che nasce da famiglie di agricoltori e quindi hanno le stesse convinzioni problematiche nostre, presente in tutto il mondo, fattura quasi 250 milioni di euro, il gruppo ad artà, e quindi il futuro noi lo dobbiamo, almeno per il Coalpa, guardare insieme, in collaborazione, con questo gruppo. Le cose stanno quasi per concretizzarsi da un giorno all'altro, quindi speriamo bene. Il Coalpa, ma soprattutto anche, perché poi è la vostra origine, l'AMPP, e torniamo un po' sui fatti terra-terra, ecco, per restare in agricoltura. Tra poco inizierà la raccolta delle patate. Esatto, proprio sti giorni abbiamo fatto la prima riunione come osservatorio economico, gestito dal Consorzio IGP, abbiamo dato delle indicazioni, ecco, il messaggio che voglio dare, che abbiamo dato anche nel comunicato stampo, che sta agitando sti giorni, è quello che, certamente, ripetere l'annata eccezionale dell'anno scorso dal punto di vista dei prezzi, lo speriamo tutti, ma è tutto da vedere. Però sarà sicuramente l'annata buona. Quello che bisogna evitare, ma qua ritorniamo al discorso dell'associarsi, quindi di avere anche le strutture, per poi stoccare i prodotti in raccolta, è quello di non svendere il prodotto come si fa durante la raccolta. Io capisco che poi il produttore che ha seminato, che deve raccogliere, non sa dove stoccarle, poi il prodotto da qualche parte lo deve andare a vendere. Ma tutto questo significa fare soltanto gli interessi degli operatori privati e non quelli dei produttori agricoli. Perché poi, sì, è vero, la nuova produzione, le nuove tecnologie vi portano ai mercati internazionali, mondiali, però, ecco, voi siete nati con le patate, se vogliamo, ed è un settore che dovete giustamente difendere da speculazioni varie. Assolutamente, tant'è che noi a settembre, finita la campagna della corte, la MPP ha già approvato, è stato approvato dal comune di Avezzano, l'ambilamento della struttura di stoccaggio di strada 46, dove andremo a realizzare strutture di conservazione per altri 80.000 che in dalla patata. L'obiettivo è quello di continuare a crescere, di cercare di controllare come associazioni, non solo la MPP, che benvengano anche altre strutture similare, ma quella di riuscire a controllare almeno il 70-80% della produzione. Questo significa avere più reddito e risorse da lasciare sul territorio. Benissimamente, così siamo quasi alla fine. Per quanto riguarda il settore della surgelazione, come Covalpa, come siete organizzati? Noi siamo un OP di surgelazione, una cooperativa, c'è questa commerciale Agri-Food che è stata rilevata dal gruppo belga che dicevo prima, della D'Artà. Questi aspettano il nostro raddoppio di capacità produttiva perché hanno l'intenzione di esportare l'italianità e quindi il prodotto che facciamo qui in tutto il mondo. È un gruppo che è presente in quasi 60 paesi con il prodotto belga oggi. Non è che siamo stati bravi a essere scelti, lo siamo stati perché oggi il prodotto italiano, la certezza, la sicurezza alimentare che dà la produzione italiana non la dà altri prodotti extra italiani. Quindi è un brand che va venduto e che va organizzato e portato a tutti i consumatori in tutto il mondo. Conclusione, ti chiedo, sicuramente lo fai tutti i giorni, di lanciare un messaggio agli agricoltori che sono ancora un po' resti ad accettare certe condivisioni che sono poi alla base del successo. Associarsi, associarsi e associarsi. questo è un messaggio da dare ai produttori. Se non lo sono già che hanno le cooperative si possono creare di nuovo se non gli piacciono quelli esistenti ma è fondamentale mettersi insieme. In conclusione, possiamo senz'altro affermare che il Coalp Abruzzo e l'AMPP rappresentano due eccellenze nel panorama agricolo nazionale, in realtà che garantiscono redditività a tantissimi soci e agricoltori in un settore che sta attraversando una difficile crisi con concorrenze agguerrite in campo internazionale.